Oh ragazzi, che bello, che bello essere di nuovo qui. Scusate per l'assenza di ieri, ma ero a Roma, sono tornato da Roma proprio perché abbiamo giocato Juventus Lazio. So che fa strano dirlo nel giorno di Juventus Lazio, ma abbiamo giocato anche noi Juventus Lazio. Finale di andata di YouTuber League. Come è finita? Ve lo racconterà Federico Marconi sul suo canale sabato prossimo. E quindi fino ad allora niente spoiler. Per chi sa, per chi non sa, per chi vuole indovinare, niente spoiler. E proprio Juventus Lazio oggi sarà la partita che concluderà il 2022 della Juventus e anche della Lazio, quindi della Serie A. Ci rivediamo nel 2023 a gennaio post mondiale. E in questo momento inizia ad essere un po' malinconico. Dico senza problemi perché con l'Italia non qualificata ancora e con la Juve che in questo momento è in ripresa per quanto riguarda i risultati. Per le prestazioni qualcosina si muove, non troppo, ma poi avremo il tempo per parlarne, per analizzare, per sviscerare, per segmentare. Questo mese e mezzo lo utilizzeremo per cercare di ragionare in modo lucido e quanto più analitico possibile riguardo alla Juventus, cercando di prendere in considerazione tutte le variabili. Per oggi bisogna vincere. Oggi è inutile girarci intorno, bisogna inseguire una sesta, sesta vittoria consecutiva contro una Lazio che è la seconda miglior difesa della Serie A. La Juve è la prima, quindi dovrebbe essere, come dicevano ieri in conferenza d'Allegri, una gara sulla carta abbastanza bloccata. Vedremo se sarà così oppure no. E intanto vi ricordo di scaricare il numero 10 perché il post partita di Allas Verona Juve è uscito lì. Il post partita di Juve Last invece esce tranquillamente sul mio canale YouTube, però ovviamente abbiamo la possibilità di guardare insieme articoli e altri video che farò uscire appunto sull'applicazione completamente gratuita. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Allora, io ragazzi vorrei partire da questa cosa qui, questa cosa qui, perché, vabbè, questa è la Lazio che al momento è seconda in classifica in Serie A, ok? Guardate la classifica, concentratevi sulla classifica. Il Napoli, ieri ha vinto 3-2 con l'Udinese, vola, scappa, in fuga. Napoli con 41 punti che veramente sta facendo un campionato a parte e ieri ad Allegri hanno chiesto se la Juventus potrebbe addirittura cercare, ipotizzare di inseguire il Napoli. Vincendo oggi andremo a meno 10. Sugli scontri diretti ce ne sono 6 in paglio. Stiamo ragionando però con una tripla vittoria, 2 sul Napoli e 1 sulla Lazio. Quindi stiamo parlando del niente. Oggettivamente è complicato pensare che la Juventus possa cercare di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli, ma è complicato pensare che chiunque possa mettere i bastoni tra le ruote al Napoli, che veramente sta correndo a una velocità quasi inaudita. Infatti ieri è entrata nella storia come una delle 5 migliori squadre per partenza in Serie A, le altre 4 erano appunto la Juventus, tra cui la Juventus di Sarri. Ok, Juventus di Sarri. In tanti non hanno un gran ricordo di Sarri, ma come ben sapete io avrei confermato Sarri per un altro anno. Quando vince uno scudetto per me è difficile considerare l'annata un fallimento, anche se lì per lì l'ho considerata tale. L'ho considerata tale perché venivamo da un filotto di scudetti incredibili e la volontà di cambiare Sarri non era più tanto per la competizione in Serie A, quanto più cercare di vincere l'Europa proprio perché Sarri veniva da un'Europa League vinta proprio con il Chelsea. Chissà che magari quest'anno possa essere il nostro turno per l'Europa League, non ne ho la più pallida idea. Un trofeo internazionale me lo prenderei comunque volentieri, quindi speravo in qualcosa di più lato Europa e non potevo immaginare invece che quello sarebbe stato soltanto il primo anno di tre con l'eliminazione agli ottavi per poi proseguire con un'eliminazione ai gironi. Quindi un'eliminazione agli ottavi paradossalmente oggi è oro colato. Quindi io di Sarri non ho brutti ricordi, lì per lì non ero soddisfattissimo della stagione, ma comunque l'avrei confermato. Ero comunque galvanizzato a livelli allucinanti per l'esperienza Pirro. Anche lì non potevo immaginare che potesse andare così male, così male con Pirro, però anche lì. Firmerei per due trofei oggi, ora come ora, quindi come potete vedere quando immagini che può andar male in realtà sta andando discretamente bene, ma torniamo un attimo a noi. L'Azio che è lì, seconda, vincere oggi ti porterebbe a quota 31. Secondo posto, in attesa delle partite, anzi, noi, gli altri sono in attesa di noi, però oggi si gioca Inter-Atalanta, Milan-Fiorentina, l'unico che gode il Napoli là da solo, che ieri ha già vinto e quindi le altre possano perdere qualche punto per strada. È ovvio, è ovvio che tifo per i pareggi di entrambi o per la vittoria della Fiorentina, tutt'al più per far perdere qualche punto a Milan-Inter-Atalanta e staccarsele un pochettino, però noi bisogna vincere, anche contro un Alassio che ha delle grosse assenze, perché guardate un attimo lì, top scorer dell'Alassio, sei Immobile e cinque Zaccagni, non ci sono, nessuno dei due, non c'è neanche Lazzari e se guardiamo invece top assist, Zaccagni al secondo posto, Milinkovic al primo, l'arrivabile con sette, però Zaccagni al secondo posto insieme ad Immobile, quindi stiamo parlando di un peso specifico in attacco non da poco e l'Alassio nelle ultime due infatti ha faticato un po' a trovare la via del gol, vincendoli tutti e due per un gol a zero e invece quella prima ancora aveva addirittura persa per 3-1 con la Salernitana, quindi un Alassio che in questo momento non è proprio nel momento top stagionale, una Juventus invece che arriva di rincorsa, però come ben sappiamo le vittorie con Lecce e della Sverona sono state frutto di episodi o di casualità, a volte di appunto episodi fortunati, fortunosi, quindi questa sera secondo me contro Lazzar servirà qualcosa in più, una partita sulla stessa falsa riga di quella col PSG o una partita sulla stessa falsa riga del secondo tempo con l'Inter, perché attenzione, attenzione ad accontentarsi, è quello che vi voglio passare, come vi cercavo di dire nel video analisi post Verona, sono felicissimo della vittoria, ma attenzione ragazzi a farla passare per una vittoria concreta che ha risolto i problemi, perché non è così, però vorrei cercare di capire anche lo stato della Lassi in confronto alla Juventus e quindi sempre con Soccer, mentre il link è qui sotto in descrizione per cercare di analizzare questa squadra, questa è la tabella di quello che fa la Lassi e di quello che fa la Juve, sono due squadre molto simili se vogliamo, per recuperi, per clean sheet, lo dicevamo prima, clean sheet la Lassi o la Juve sono le due migliori squadre in Serie A, quindi per forza di cose sono molto simili, per passaggi sono molto simili, poi bisogna vedere in questo grafico dove vengano costruiti i passaggi e la Lassi addirittura forse muove la palla qualcosina in più rispetto alla Juve nella propria metà campo e invece nella metà campo avversaria sono due squadre che palleggiano quasi allo stesso modo, quindi la Juventus e la Lassi sui passaggi sono delle squadre simili, i dribbling, la Lassi un po' di più, i gol, la Lassi un po' di più, i tiri, la Lassi un po' di più, quindi dal punto di vista della fase difensiva Juve e Lazio si equivalgono per qualità, ovviamente qualità inteso come gol subiti, non come occasioni, quello è un discorso a parte, e invece sotto il punto di vista della fase offensiva forse la Lassi o qualcosina di più, quindi passatemi il termine, guardando la classifica, guardando i dati, questa è una partita probabilmente da tripla e come vi dicevo prima questa è una partita, ragazzi che va vinta, questa è una partita che va vinta perché la Juventus deve cercare assolutamente di portarsi a casa questi tre punti prima del mondiale e godersi il mondiale, magari addirittura da seconda in classifica, e per farlo dovrà passare da una prestazione che passa a sua volta da una formazione perché abbiamo visto delle assenze importanti per la Lassio, ma attenzione perché anche noi non sappiamo se quadrate Locatelli saranno disponibili, verrà deciso in mattinata, io mi immagino che questa possa essere una sorta di formazione per la Juventus, 3-5-2 confermato, Danilo Bonucci-Bremer, Kostic-Rabbiò, Locatelli, Fagioli, Quadrado, Milik e Ken, Milik e Ken perché non credo che vedremo ancora Miretti in appoggio a Milik con Ken disponibile e che ha fatto gol con l'Ellas anche se la prestazione generale non è stata chissà che cosa, se non gioca Locatelli immagino che giocherà uno tra Paredes e Miretti al suo posto, se gioca Miretti immagino Fagioli arretrato davanti alla difesa anche se secondo il giocatore è molto offensivo ma Allegri ce l'ha detto, lo vedo abbastanza bene lì e se no gioca Paredes anche se col Mondiale alle porte e mi dispiace per lui però se è a disposizione dovrà giocare o se non ci sarà Quadrado sarà difficile trovare una soluzione per la difesa 3 e quindi magari vedremo un 4-3-3 o un 4-2-3-1 qualcosa di simile, non lo so, con magari Di Maria al posto di Quadrado e con Danilo che andrà a fare il terzino destro, quindi vedete come un'assenza come quella di Quadrado è indispensabile in questo momento per il modo di giocare ti va a cambiare completamente l'assetto tattico e anche il modo in cui viene preparata la partita. Prima vi dicevo di Paredes che si è a disposizione e deve giocare e qui non posso fare altro che entrare nel discorso Vlaovic perché Allegri l'ha detto chiaro e tondo, Vlaovic si è allenato comunque con la squadra, ha fatto due mezzi allenamenti, poi non se l'è sentita, non se la sente di giocare e anche qua uno potrebbe dire se a disposizione gioca così come Paredes però se Paredes ha dato disponibilità è perché probabilmente si sente al sicuro, pronto no? E questo il punto, poi magari Paredes di Maria dà disponibilità ma non partire dall'inizio perché si sentono di non avere 90 minuti nelle gambe e ce ne hanno 20. Io posso parlare per mia esperienza personale anche se è difficile in questo momento ragionare in funzione di un mondiale a gennaio, infatti ho letto le dichiarazioni di Sarri che parlano appunto di un'offesa al calcio, un mondiale a gennaio in Qatar, non posso fare altro che condividere questo pensiero, è un po' quello che penso anche io e certo non c'è l'Italia, rode ancora più il culo, però un mondiale a gennaio in Qatar è veramente un'idea del piffero, capisco il denaro, capisco i soldi ma è veramente un'idea del piffero, quindi Vlaovic non se la sente, Vlaovic viene dalla pubalgia, io per come sono fatto finché ne ho e sento che il mio corpo mi può dare la possibilità di spingermi un po' più in là, ci provo, però non ho mai avuto la necessità di avere un mondiale tra una decina di giorni, quindi clinicamente magari Vlaovic è guarito, però le sensazioni sono una cosa diversa, quindi se Paredes ha dato disponibilità e Vlaovic no, probabilmente perché Paredes si sente un po' più tranquillo riguardo le sue condizioni. Mi è capitato col ginocchio l'anno scorso una contusione, un edema, praticamente la stessa cosa che si è fatto Kai Org, lui si è proprio rotto il legamento del ginocchio, io avevo un edema semplicemente, è stato riassorbito nel giro di due mesi, clinicamente ero guarito, ma io tuttora gioco con un tutore perché sento fastidio, e quindi la sensazione che chi ha il calciatore è diversa da quello che rileva l'esame strumentale, e se il calciatore non si sente pronto è difficile costringerlo a giocare, e poi è ovvio che purtroppo ragazzi questa cosa del mondiale era prevedibile che alcuni giocatori potessero decidere di, io sono meravigliato di vedere Paredes e di Maria convocati oggi perché immaginavo che potessero cercare di tirare un pochino i remi in barca in prigione del mondiale per via di quella notizia che Di Maria aveva etichettato come fake news, e gli aveva dato atto, era una fake news, però nei Paredes e di Maria sono al 100%, così come non è al 100% Vlaovic, così come potrebbero non essere al 100% Locatelli e Quadrado, e quindi vediamo perché oggi la formazione, ragazzi è difficile da fare, oggi la formazione è molto complicata da fare, perché non c'è neanche Alessandro che è squalificato, quindi se non gioca Quadrado, immagino entrerà uno tra Gatti Rugani per andare a formare una difesa a quattro, anche se come la fai la difesa a quattro, perché poi chi ci metti terzino, magari Gatti ti fa il terzino destro e Danilo quello sinistro, non lo so, non ne ho idea, Quadrado in questo momento con Alessandro squalificato è di vitale importanza, non si ferma da un po', a meno che non venga convocato Barbieri, venga data la possibilità a Barbieri di giocare dall'inizio, questa sarebbe una buonissima notizia per la Juventus, sarebbe anche una cosa che vi gaserebbe in una partita così importante, quindi vediamo un attimo perché questa formazione può essere tutto o nulla, meno che non venga utilizzato Costi, c'è addirittura come terzino sinistro e Danilo a destra, non lo so, ci sono una marea di variabili, di ipotesi, può essere tutto o può essere niente. Concludo dicendo che questo Juve Lazio me l'ero immaginato diverso, vi spiego anche il perché, me l'ero immaginato post Monza e post momento di blocco per la pausa nazionale di due settimane, guardando il calendario ho proprio pensato, Sarri arriva all'Allianz Stadium dopo la conferma di Allegri, dopo questi mesi, un mese e mezzo, due mesi di vediamo come va con Allegri, con Allegri che non riesce a dare lo sterzo e Sarri che va lì e ammassa la Juventus ed esonera Allegri, sarebbe proprio la chiusura di un cerchio clamoroso anche per ideologie, no? Sarri Allegri è la contrapposizione per storia, Sarri è al posto di Allegri, poi Sarri è saccato, arriva Allegri, quindi un insieme di circostanze. Oggi la classifica ci parla in modo diverso, ci parla in maniera diversa. Io stesso avrei esonerato Allegri, io stesso ero per il cambio in panchina con il Monza e vi parlerò della mia posizione dopo questa partita perché oggi secondo me non ha senso parlare dell'allenatore, delle preferenze, delle volontà, del cambio, oggi non ha senso parlare della panchina. Oggi ha senso parlare degli ultimi 90 minuti dell'anno, oggi ha senso parlare di una Juventus che inaspettatamente in qualche modo, in qualche maniera, per caso, per miracolo, per fortuna, per bravura, per quello che volete voi, deve avere, quello che volete voi è lì. È un match point importantissimo contro una squadra ostica, l'abbiamo vista, che anche a livello statistico è superiore a noi, a livello di dati è superiore a noi, ma anche a livello di punteggio. Ma il calcio, per fortuna, viene studiato dai numeri, dai dati, ma poi il pallone è tondo. Il pallone è tondo può succedere qualsiasi cosa. Lassi in emergenza, Juve in semiemergenza, forse emergenza anche la Juve, perché sai, è vero, loro manca Immobile, Zaccagni e Lazari, a noi manca Vlaovic, Pogba, la possibilità di schierare una formazione come Dio comanda. Abbiamo dei giocatori a mezzo servizio, se non ho un quarto di servizio, quindi anche noi non stiamo bene, non stiamo bene. E quindi sarà bella, sarà bella da vivere, da giocare, da soffrire tutti insieme e vedremo che cosa ne salterà fuori. Ma oggi veramente lasciamo da parte le guerre ideologiche, lasciamo da parte le preferenze sui modi di giocare, di vivere, di intendere il calcio. Concentriamoci sul fatto che la Juve può passare una pausa mondiale in maniera più serena rispetto a come ce l'eravamo immaginata. Non tifiamo la nostra idea, non facciamolo mai, ma soprattutto non facciamolo oggi. La Juventus rimane la cosa più importante in assoluto e vincere oggi darebbe un qualcosa di diverso sul mood a noi tifosi di come affrontare questi 40-50 giorni di stacco dalla Serie A e dalla nostra amata Juve. E quindi forza Juve. E quindi portiamoci a casa questa vittoria, cerchiamo di soffrire perché ci sarà da soffrire tutti insieme. Purtroppo, ve lo dico già adesso, ci sarà da soffrire. Ma poi cerchiamo di guardare la classifica e dire, beh, sai che così è decisamente più bella? Non ancora bella, perché la classifica è bella solo quando la Juve è prima, ma più bella rispetto a vederci all'ottavo o nono posto in Serie A.